Un saluto dal Tg della mobilità, oggi alle 15, le esecue di Monica Vitti nella chiesa di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo, entro le 8 è prevista la rimozione di tutti i veicoli sulle rampe di via D'Annunzio e a Piazza del Popolo, con la sospensione delle postazioni dei taxi. E sull'argo Somalia sosta e circolazione sono vietate nel tratto lungo via Ale e Somalia tra via di Villa Chigi e il Civico 65. Su via Mancinelli cambia la circolazione con il senso unico di marcia nella direzione da Largo Somalia a via Le Boito, in via di Villa Chigi. Transito e sosta sono vietati tra Largo Somalia e il Civico 97. Inoltre, sempre su parte di via Le Somalia, in via Loncavallo, via Mascagni, via Martucci, via Marchetti e su parte della circonforazione salaria, è vietato il transito dei veicoli con lunghezza superiore ai 7,5 m. E tutto appuntamento alla prossima edizione.